Dico questo video, allora questo qua ragazzi è un video serio, serio, ci sarà anche Olaf, veramente no raga veramente, c'è anche Olaf qua che mi sostiene E vabbè stavamo dicendo, ora parlerà Olaf, vedete che la mia mano lo regge, vabbè stavamo dicendo che oggi veramente, non è che facciamo i video stupidi come li facciamo di solito Oggi parleremo di un fatto che è veramente bruttissimo Molto brutto Molto brutto, vabbè allora, c'è praticamente avete visto Simone che è il Royal Gamer? Oggi diremo il cognome No Dai scherzo, vabbè praticamente volevo dire una cosa molto importante, verrà denunciato alle 3 di notte Ma chi? Tu Ma che è stato in corno, sì Vabbè noi faremo questa cosa per via dal fatto che lui beve troppa coca cola e punto E vabbè Verrà denunciato Che senti? A coca cola, cioè a coca cola, coca cola, coca cola Ma devi mangiare le carote Non mi piacciono Eh? Non mi piacciono Eh? Vabbè Non mi piacciono No allora non è dal fatto che lui beve troppa coca cola, è dal fatto che lui E tu ti fumi le canne No, è dal fatto che lui ti fa a Roma Ehm E per te Lui visto che ti fa Roma, allora lui deve ti fare Juve, perché vedete che i miei bottoni sono neri e poi io ho la pelle bianca E quindi Ehm Lui è da questo fatto Praticamente E' veramente una cosa veramente brutta Dal fatto che Come fatti fare a Roma, Z? Come fatti per Roma? La propria squadra, eh Io ti f ali il randa Vabbè Comunque raga Ti stai, Z? Sì?